Siamo alla terza edizione del Divento Festival 2021. Quest'anno il tema principale è tradunione fra gli eventi del Festival alla dimora nelle sue possibili declinazioni. Poesia, cinema, fotografia, teatro, illustrazione e architettura. Venerdì 9 luglio inaugurerà il Festival del Poeta Gianfranco Lauretano alle ore 18, mentre alle ore 15 si svolgerà il corso di filmmaking di cinema. Alle ore 18.30 invece avremo Enzo Carli e Marco Leon che parleranno insieme alla conduttrice dell'incontro Fiorella San Paolo sul tema della fotografia di Mario Giacomelli, il tema sempre di Mora. Mentre la sera avremo un incontro di teatro alle 9.30 della durata di mezz'ora su un'improvvisazione teatrale del teatro di Ancona e alle ore 22 il concerto di Sebastiano Paiuca finalista del premio di Andrè di questo anno. La seconda giornata del Festival è sabato 10 luglio e si svolgerà a Villa Minetta, Caldarola. A partire sin dal mattino c'è la possibilità per i bambini di iscriversi ad un corso, ad un laboratorio di illustrazione tenuto da Filomena Galvani, diplomata di Sia di Urbino e con questa possibilità c'è anche, il laboratorio partirà alle 2 di pomeriggio, ma c'è anche la possibilità di usufruire dello spazio piscina sin dal mattino con i rispettivi genitori. Successivamente, dalle 18, un talking di architettura con diversi architetti coinvolti dell'Ordine degli Architetti. L'incontro è stato organizzato da Ilde Cipolletti. Successivamente, a partire dalle 21.30, Jenny Ceresani ci mostrerà una performance teatrale tra e d'union fra la danza e la scuola, in quanto lei è insegnante e danzatrice. A seguire, un concerto di musica jazz tenuto dal gruppo Pierre Jazz Fotte. Torniamo infine con l'ultima giornata del Festival, domenica 11 luglio 2021, sempre a Fabrica Sidi come il primo giorno, venerdì 9 luglio. Alle 18 inizierà un incontro su Dante, venuto proprio dal poeta Gianfranco Lauretano, che tornerà proprio per questo incontro. Alle 20 torna il gruppo di teatro Terra di Nessuno, che porterà una nuova performance di improvvisazione teatrale, mentre alle 21 avremo la finale degli Europei trasmessa sul maxischermo. A seguire, i Brema suoneranno per noi per chiudere l'ultima serata del Festival. Vi aspettiamo di Vento Festival 2021, luogo di bellezza e di incontro.